Pronti per un nuovo appuntamento milionario? È il momento dell'estrazione di Eurojackpot! Un caro saluto a tutti e ben ritrovati con l'estrazione di Eurojackpot. Mentre attendiamo il collegamento con la Sala delle Urne, soffermiamoci sulle bellezze architettoniche dell'Ungheria. Il Palazzo del Parlamento di Budapest è il secondo per grandezza al mondo, dopo il Parlamento rumeno e quello argentino. Costruito tra il 1884 e il 1902 sulla riva del Danubio, dal 1987 fa parte del patrimonio dell'umanità. Conta 691 stanze, 20 chilometri di scale, una superficie di 18.000 metri quadrati e 252 statue. Numeri da capogiro, come quelli di Eurojackpot. Il jackpot di oggi vale 113 milioni di euro. L'estrazione sta per iniziare. Colleghiamoci ora con la Sala delle Urne. Nella prima urna elettronica vediamo già le sfere in movimento. A breve scopriremo il primo numero estratto della nuova combinazione vincente. Pronti per il primo numero? Che l'estrazione abbia inizio. Il primo numero è 19. Ecco il secondo numero di questa sera. Il secondo numero estratto è il numero 38. Siamo ora al terzo estratto, ed è il numero 3. Quarto numero di questa estrazione. Eccolo, è il numero 32. La quinta sfera estratta potrà regalare vincite milionarie se associata ai due euronumeri, che arriveranno a brevissimo. Il quinto numero estratto è... 17. Mancano solo i due euronumeri e potrebbero assegnare il jackpot milionario in pali oggi. Abbiamo il primo euronumero della nuova combinazione vincente di euro jackpot. È il numero... 7. Ultima sfera estratta per questa sera. Siete pronti alla possibile assegnazione del jackpot? Ecco il secondo euronumero. 6. È il momento di scoprire la combinazione vincente. 3. 17. 19. 32. 38. I due euronumeri sono... 6. E... 7. Controlliamo i risultati di questa estrazione e le quote di tutte le categorie di vincita. Con grande piacere vi annuncio che questa sera è stato vinto il jackpot in Europa. Una serata grandiosa, con tante vincite straordinarie. Seguiteci sul sito web eurojackpot.it per scoprire dove sono state realizzate le vincite. La caccia al jackpot milionario prosegue martedì prossimo. Il jackpot in palio sarà pari a... 10 milioni di euro. Il valore del jackpot continua a salire. I vincitori della prossima estrazione potreste essere voi. Per giocare bastano solamente 2 euro. Vi ringraziamo per essere stati con noi e vi diamo appuntamento a martedì prossimo con una nuova estrazione milionaria di Eurojackpot. Grazie a tutti.